Una cosa vera, in realtà. Avrà il sorriso sulle labbra il pubblico che venerdì sera si recherà alla BCC Arena di Fano per assistere al Festival della Comicità intitolato Cabaret ed Intorni. L'evento, organizzato dall'associazione Oltre il Sipario di Edoardo Frustaci, vedrà sfidarsi gli artisti comici sul palco del Teatro Sotto le Stelle. Sono contentissimo, siamo riusciti sempre e crescendo sempre di più anche con l'affluenza di pubblico perché negli anni è cresciuto tantissimo, l'anno scorso abbiamo toccato quasi 600 persone quindi siamo soddisfatti, quest'anno speriamo di arrivare anche oltre a questo numero e ovviamente più gente c'è più riusciamo a dare in beneficenza. La beneficenza sarà evoluta da un'associazione Onlus, Amore per la vita, di Fano che si occupa di adozione a distanza e segue una missione in India. Come lo scorso anno anche nella quarta edizione i partecipanti verranno suddivisi in due categorie una in italiano e una in dialetto e le sfide verranno presentate rispettivamente da Frustaci e dall'attore teatrale Nicola Anselmi. Siamo contenti, abbiamo personaggi anche che vengono dalla televisione come dal fiume Dondarini che sono arrivati in finale a eccezionale veramente. Abbiamo Michele Tosoni che ha vinto l'anno scorso, è stato veramente molto bravo che fa parte del Lab Dolor di Zelighe così come Luca Bisto e Luca Giardullo. Quindi ci sono diversi personaggi, poi abbiamo Luca Vichi che sarà un grande rappresentante della nostra provincia. Poi saremo anche accompagnati da un po' di danza. Abbiamo Arte Danza che è organizzata e gestita da Mascia Valentini e Milena Giammattei che creano appunto questa scuola nuova che sta entrando in questa Accademia dello Spettacolo che a settembre sarà operativa qui a Fano dove ci sarà danza, teatro, magia, canto, conduzione radiofonica, ci saranno diverse attività tutte ovviamente dette allo spettacolo. Vi aspettiamo quindi il 29 luglio venerdì all'Arena di Tre Ponti alle 21.15 puntuali e numerosi.